Accanto a me c'è Olga Strada, il cui intervento è previsto tra i relatori, ma diciamo un piccolo inciso è opportuno darlo ora e dopo di te parlerà il dottore Alessandro Masi. Allora innanzitutto buongiorno a tutti, grazie al senatore Tiziana Anisini per accoglierci in questa sala, grazie a tutti i relatori e un saluto a voi tutti. Quest'anno la 73esima edizione del Festival del Cinema e del Cortometraggio di Montecatini sarà particolarmente ricca, non soltanto per le 258 adesioni di film, noi membri della giuria stiamo facendo questa selezione ed è una selezione piuttosto ardua perché la qualità dei cortometraggi, dei documentari, dell'animazione e di quello che è stato definito il nuovo linguaggio cinematografico più vicino alla videoarte e stiamo notando che è particolarmente elevato. Sono moltissimi i paesi che partecipano, quindi nel selezionare significa anche che bisogna accendere tutta una serie di altri sensori, cioè capire un po' qual è la storia di quel paese, conoscere un po' la cinematografia di quel paese e i determinati linguaggi. Tra i membri della giuria voglio salutare qui Alberto Di Mauro, che è già... Catello. Sì, certo. Dottor Catello, poi volevo tra i nostri memici Alfonso Palason, Anja Efimenko che è la direttrice del Festival del Cinema di Kiev, Armando Lostaglio, Laura Villani, Maria Paola Viano e Eleonora Capitani. Spero di aver citato tutti. Un altro aspetto che emerge dall'edizione di quest'anno è questa interdisciplinarietà, cioè il cinema che viene, il linguaggio cinematografico che viene abbinato anche ad altre forme espressive come quella della danza. Per me, che mi sono occupata molto di Sergei Diaghilev, che è stato colui che ha animato la scena europea all'inizio del Novecento con i balletti russi che avevano incendiato Parigi e poi sono stati anche rappresentati rappresentati anche a Roma. Ricordo che nel 1917, se non sbaglio, fece una scenografia con balla al Teatro Costanzi di Roma e quest'anno ricorrono i 150 anni della nascita di questo grande impresario che, ricordo, è sepolto a Venezia, all'isola di San Michele. Quindi c'è anche questo legame ulteriore con l'Italia. Una delle caratteristiche del cortometraggio è quello appunto di avere un linguaggio sincretico, che è poi quello che caratterizza anche il linguaggio della danza. Penso che sarà un'edizione particolarmente scoppiettante, interessante sotto sotto molti aspetti. E dato che ci sono tanti relatori, so che ci sono altri, spero di aver detto sincreticamente tutto. Grazie.